Come la mangerebbe una tigella? Un calippo Questa è una bella domanda No no, ciucciarla Tutti i modi si mangiasse un calippo Coltello e forchizze Morbido? E cucchiaino? No Calippo non lo so, si mette in frigo E' un semifreddo? No Liquido? Ci manca liquido con la cannuccia? No Quindi? Vabbè quello si, come a pezzo Tipo plastiline Con le mani E non liquido La risposta E' un semifreddo Grazie a tutti.